Un linguaggio diverso per una pubblicità diversa. E' questo il titolo del mando di concorso presentato oggi, in occasione dell'8 marzo, nella sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo. Il bando è promosso dal Comitato e dalla rete Se non ora quando Napoli ed è rivolto alle scuole medie e superiori e alle università. L'incontro è stato aperto dalla leader nazionale del movimento Se non ora quando, Francesca Izzo. Il sinnaco Luigi De Magistris ha chiesto aiuto alle donne per costruire una città che sia sempre di più delle donne e dei diritti. Proprio dei diritti, ha detto la Presidente della Consulta delle Lette, Simona Molisso, si deve far garante la politica, che deve essere capace di raccogliere e sostenere, proprio come ha fatto in questo caso, gli stimoli e le idee che vengono dalla società civile. Grazie a tutti!